Appena concluso il laboratorio per arte Donapoli sull'uso della maschera in arti terapia e teatro, un laboratorio molto interessante in cui abbiamo affrontato insieme i temi dell'uso del gruppo come strumento di trasformazione dell'immaginario dell'individuo. Un lavoro molto fruttuoso, un gruppo molto attivo, molto partecipe, con il quale ci siamo rimandati al prossimo laboratorio che terrò qui a Napoli a settembre, il 22-23 settembre, in cui invece tratteremo il tema delle arti terapie all'interno dell'ambito scuola, quindi il laboratorio si intitola L'insegnante efficace e in questo laboratorio vedremo tutta una serie di tecniche utilizzabili proprio per favorire tutti quelli che sono i processi di apprendimento e di socializzazione all'interno del contesto scolastico. Vi aspettiamo!